Io vi parlerò di una delle prime scene che abbiamo creato, la scena della massa statica. Per creare questa scena ci siamo basati su delle letture prese da Elias Canetti, Massa e Potere. La scena della massa statica è una scena corale dove i corpi indagano una tensione non intesa esclusivamente a livello muscolare, ma una tensione intesa anche come direzione, il desiderio di un movimento in potenza. In questa scena corale, in questa situazione di massa, le individualità emergono attraverso dei micro affioramenti Questi micro affioramenti sono stati creati grazie a un vocabolario che noi abbiamo chiamato Forza e Fragilità. Questo vocabolario è stato creato attraverso l'individuazione sui nostri corpi e su noi stessi dei punti di forza e fragilità. Come performer mi viene richiesto di attivare una attenzione sensibile, non esclusivamente a ciò che sono io in quel momento, ma anche allo spazio che intercorre tra tutti i nostri corpi. Forza e Fragilità